Da questa esperienza mi aspetto di conoscere tanti colleghi, di portare a casa tanta formazione e meno emozionata di adesso sicuramente. Com'è andata? Andata bene, mi sono divertita, è stata un'esperienza bella, piaciuto, ho conosciuto un fracco di gente, tanti colleghi e non colleghi, divertita veramente tanto. Raccontami un po' com'è stato il casting. Il casting è stato emozionante, paura di una telecamera all'inizio e adesso si viaggia benissimo. E la settimana com'è andata? Stancante da morire, non siamo mai scesi, però portiamo a casa un bel bagaglio. Grazie mille. Grazie a te.